L'eventuale appoggio della Lega allo scostamento di bilancio dipende dal fatto che il governo e la maggioranza accolgano alcune nostre proposte, uno sull'anno bianco fiscale, due sul tema disabilità e il secondo grande filone, scuola disabilità. Le opposizioni vanno coinvolte se si vuole ottenere un risultato importante a Bruxelles. O il governo mi mette nero su bianco, che cosa vuole fare queste risorse, o io non voto proprio niente, perché i soldi degli italiani, soprattutto quando si indebitano i nostri figli, non si buttano per pagare le consulenze dei ministri, mentre rischi un'ecatombe occupazionale. Altrimenti ci si assumono la responsabilità della quale io non voglio essere, diciamo, corresponsabile. La determinazione ad agire in rapidità e con forza. Veniamo da una crisi finanziaria che dimostra quanto agire lentamente è troppo poco, presenti un conto salato. Da qui in avanti si va verso la rivoluzione copernicana del progetto europeo. Io credo che il Parlamento debba dare assolutamente degli indirizzi, un atto di indirizzo che dica come spendere questi fondi. Abbiamo avuto delle risorse europee importanti, ma visto che stiamo in un tornante è facile andare fuori strada, quindi dobbiamo essere capaci poi di guidare bene questa macchina e di avere un'idea importante del percorso che dobbiamo fare. Eccoci, il Ministro Manfredi dice che dobbiamo avere le idee chiare sul percorso che dobbiamo fare perché, come sapete, dopo l'accordo europeo, insomma, qual è la discussione su cui si è concentrati, che tiene Banco e chi dovrà gestire questa grande mole di denaro che arriverà dall'Europa. C'è stata e c'è tuttora una discussione molto forte. Inizialmente il Premier Conte aveva parlato di una task force da Palazzo Chigi che avrebbe dovuto gestire il tutto. È un'idea che non è molto piaciuta ai suoi alleati di governo. Adesso, diciamo, sia l'opposizione sia una parte della maggioranza chiedono che sia una commissione parlamentare, diciamo, a gestire l'iter delle riforme e quindi poi i rispettivi soldi per queste riforme. Si sa anche che Conte, insieme al Ministro dell'Economia Gualtieri, pensa a una rappresentanza, diciamo, a una cabina di regia in cui ci siano rappresentate tutte le forze della maggioranza e anche dei supertecnici, dei superburocratici. Insomma, la discussione è aperta. La prossima settimana, peraltro, e non è una questione di poco conto, la Camera deve votare l'ennesimo scostamento di bilancio deciso dal Consiglio dei Ministri, che darà poi vita a un altro decreto importante per sostenere l'economia, con le forze di opposizione che hanno già detto se volete il nostro voto, però noi poniamo delle condizioni. Come sapete, il voto dell'opposizione è importante, soprattutto in Senato, dove i voti per la maggioranza, insomma, sono un po' stretti. Ecco, allora, la nostra discussione comincia da qui. Io intanto voglio salutare i nostri ospiti. Do il bentornato all'onorevole Davide Faraone, d'Italia Viva. Bentornato Faraone. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie, grazie a lei. Saluto il senatore Armando Siri della Lega. Bentornato. Salve. Vediamo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, perché ci salutiamo, ma mettiamo a punto i collegamenti. Saluto il segretario generale dell'UGL, Paolo Capone. Bentornato Capone. Grazie, buongiorno a lei e tutti gli ascoltatori. Ecco, da chi rappresenta i lavoratori a chi rappresenta le imprese. Buongiorno a Federico Iadicicco, che è il presidente dell'Ampit, l'Associazione Nazionale per le Industrie del Terziario. Bentornato Iadicicco. Buongiorno, grazie, e ben trovati. Grazie. Tra poco con noi anche Roberto Sommella, il direttore di Milano Finanza. Voglio partire da Faraone. Faraone, qual è la vostra idea per gestire i fondi europei? Cabina di regia, task force, comitato parlamentare, commissione parlamentare. Qual è la vostra idea? La parola task force mi impressiona ormai, per quanto è stata utilizzata e abusata nel periodo del lockdown. La nostra idea è che debba essere coinvolto il Parlamento, tutte le forze sociali e che debba essere naturalmente coinvolto il governo in tutta la collegialità. E quando parlo di Parlamento parlo di maggioranza e di opposizione. sono tante risorse, 209 miliardi, se riusciamo a mettere, spero, anche le risorse che ancora speriamo di poter... Aspetti Faraone che c'è un problema nell'audio, c'è un piccolo problema di audio e la sentiamo a tratti. Magari si deve un po' spostare, no? Vediamo, vediamo. Sì, mi sentite? Prego, sì. Quindi dicevo, queste risorse saranno tante, ma saranno una tantum, quindi una grande opportunità per il Paese. Abbiamo il dovere di utilizzarle bene e per diciamo investimenti strutturali, non spesa corrente, non assistenzialismo. E naturalmente, visto che è un'opportunità per il Paese e quindi sulle ricadute che avrà per il Paese, dobbiamo anche fare le valutazioni corrette, io credo che il coinvolgimento più ampio è, meglio è. Poi non mi impicco allo strumento che dobbiamo individuare per il coinvolgimento, però credo che debba essere un coinvolgimento complessivo. Naturalmente le opposizioni però devono essere responsabili, non ci può essere sempre l'atteggiamento del più uno. Io mi seguo al tavolo se tu mi dai questo, poi gli si dà quello e si chiede una cosa in più, perché si cerca il pretesto per alzarsi dal tavolo. In questo momento c'è in gioco il futuro dell'Italia e su questo ognuno deve fare un passo indietro. Sì, allora, io volevo capire una cosa e coinvolgo un esponente importante dell'opposizione Armando Siri. Cioè, qui si è parlato di task force inizialmente, di cabina di regia, adesso molto sommessamente mi permetto di dire, come diceva Faraone, mutuo le parole di Faraone, cioè indipendentemente dallo strumento. Qualcuno metta nero su bianco queste riforme, quelle importanti, profonde che servono all'Italia, poi andrà in Parlamento, come spesso accade, il governo, il capo del governo e dirà questo vogliamo fare, questi sono i tempi e il Parlamento poi voterà. Non è questa la strada normale, naturale, Siri o ce ne deve essere un'altra? C'è un problema di urgenza. Noi abbiamo una narrazione, un racconto che dice che ci sono 200 e passa miliardi a disposizione. Poi abbiamo parte tante imprese, famiglie, tanti italiani che hanno sofferto questo periodo difficile di lockdown, di chiusura di tutte le attività che si sono trasformate in certe situazioni, anche in chiusure delle attività, in blocco dell'arrivo dei denari che ogni mese ovviamente chi lavora si aspetta perché è stato perso il lavoro, perché si è bloccato, perché ancora tante casse integrazioni devono essere pagate, molti anticipi sono stati fatti da piccoli imprenditori che sono andati in banca, si sono a loro volta indebitati per poter dare una mano ai loro dipendenti, ai loro operai, pensiamo appunto al ristoratore che ha dovuto anticipare ai lavapiati, ai camerieri, ai suoi collaboratori quella che è la casa integrazione che non arrivava. Quindi c'è un problema di urgenza, questi denari, oggi lo dice Gentiloni, ma lo ha confermato anche il Ministro dell'Economia Gualtieri, arriveranno alla metà del 2021, saranno anticipati soltanto un 10%, quindi circa 20 miliardi lordi e io mi chiedo se noi davvero pensiamo che questo sia sufficiente a scongiurare adesso, poi quando arriverà l'autunno, quella che potrebbe essere un'ecatombe di tante piccole realtà. Ci sono tante piccole attività che rischiano veramente a settembre-ottobre di chiudere i battenti, significa lasciare a casa tante persone, significa creare disoccupazione, significa veramente mettere il Paese in una condizione di estrema difficoltà. Allora il passaggio a nostro giudizio, al di là delle intenzioni, al di là della valutazione, poi tutta politica sull'utilizzo dello strumento, perché si poteva evitare questo andare con il cappello in mano in Europa per noi. Noi avevamo proposto al Governo di emettere un BTP come quello che è stato il BTP Italia, anche per 200 o 300 miliardi e di poter dare la possibilità ai risparmiatori italiani di comprare questi BTP a tassi vantaggiosi, in modo tale che gli interessi che si pagavano rimanevano all'interno del circuito nazionale, venivano spesi all'interno del circuito nazionale e davamo così fiducia al Paese e non avevamo alcuna condizionalità, perché non dobbiamo dimenticarci che questi fondi hanno una condizione, cioè una delle tante condizioni è che non possono essere utilizzati ad esempio per abbassare le imposte, cosa che invece per noi è fondamentale, cioè se noi oggi abbiamo a disposizione o avremo a disposizione questi denari, questi denari devono essere immediatamente messi a disposizione per fare la grande riforma fiscale che noi stiamo proponendo da anni in questo Paese, cioè una flat tax per tutti al 15% che dia una spinta ai consumi, una spinta alla produzione, una spinta all'occupazione, cioè che serva per risolvere il problema, cioè la malattia, la stagnazione e non diventi l'ennesimo atto sintomatico, l'ennesima aspirina, perché noi rischiamo che poi prendiamo questi soldi, finiscono in tanti rigagnoli e fra cinque anni noi abbiamo sul governo i debiti da pagare che non sono serviti a nulla di strutturale, invece qui noi abbiamo bisogno di un urgente piano, perché io se vado in banca a chiedere i soldi ci vado perché ho un piano, cioè vado lì e dico cara banca ho un piano, vorreste finanziarmi questa idea, invece noi siamo andati lì e abbiamo chiesto i soldi senza sapere cosa ne dobbiamo fare. Vabbè adesso vediamo perché insomma approfondiamo insomma che cosa serve soprattutto di urgente e di non rinviabile, mettiamola così. Allora intanto saluto, è arrivato Roberto Sommella il direttore di Milano Finanza, che non può dire che c'è del traffico, che non può dire del traffico, perché mai come in questo periodo le città non sono troppo raffigate. Io giro in Vespa come Nanni Moretti, è solo ritardo mio, chiedo scusa. Allora pubblicità, ripartiamo tra pochissimo e poi vi facciamo vedere anche una cosa che riguarda molto il lavoro, ieri insomma l'ennesimo dato negativo che riguarda l'occupazione in Italia ed è uno dei tanti dati che diciamo si sono inanellati in queste settimane che fotografano un paese in grandissima difficoltà. Tra poco. Allora eccoci, voglio chiedere subito una cosa a Roberto Sommella, adesso poi coinvolgo subito sia Capone sia Iadicicco. Abbiamo la prima pagina di Milano Finanza di oggi, vediamola adesso insieme. Il grande titolo è dedicato a tutto quello che sta succedendo nel mondo delle assicurazioni, delle banche, no? Perché insomma è vero che c'è il coronavirus ma intanto la finanza si muove. Forse la possiamo vedere in prima pagina. Poi però anche il tuo giornale ovviamente parla di assalto all'euro diligenza del recovery fund. Si fa strada alla bicamerale. Prima diciamo siamo partiti da questo. Diceva Faraone, io non mi impicco sullo strumento, l'importante è che si abbiano le idee chiare e si faccia presto. Allora ti chiedo, adesso non lo so, una cabina di regia, il governo stesso, facesse queste riforme e poi va in Parlamento e le presenta. Ma è così difficile? Io faccio, noi facciamo questa riflessione molto semplice e ci rimandiamo alla Costituzione. tre articoli, l'articolo 1, l'articolo 81 della Costituzione e il 43 se non sbaglio. Comunque sostanzialmente sono quelli che dicono che soprattutto le manovre di bilancio devono essere fatte con degli scostamenti approvati dal Parlamento. Allora se il recovery plan, il recovery fund, cioè questi soldi che arrivano, sono di fatto una finanziaria speciale europea, il luogo deputato per giudicarne la validità, stabilire le priorità, stabilire le quantità e la qualità dell'intervento è il Parlamento per il semplice motivo che lo dice la Costituzione. Noi faremo la manovra di bilancio 2021 con questi soldi europei, perché la manovra di bilancio ovviamente si imposta nel 2020 ma poi viene a dare i suoi effetti e di fatto deve essere finanziata nell'anno successivo. L'anno successivo è l'anno in cui arrivano i soldi. Quindi la proposta del centrodestra di Renato Brunetta, ho visto anche alcuni del Partito Democratico che l'appoggiano e anche altri di un schieramento più composito, è molto sensata. Basta cabine di regia, basta centralizzare. C'è il Parlamento, è aperto, stanno con le mascherine ma lavorano. Il Parlamento è sovrano, lo dice. Ripeto, la Costituzione stabilisce sempre la Costituzione che è il Parlamento che deve decidere in che modo sforare il bilancio e aggiungo sempre che la Costituzione stabilisce che ci possono fare degli interventi in deroga alla Costituzione medesima ma per forza maggiore europea, per forza maggiore dei trattati. Quindi la strada maestra io credo sia di fare rapidamente un check con il Ministero dell'Economia e Palazzo Chigi delle risorse spendibili, abbattere tutte le varie contrapposizioni politiche perché abbiamo davvero pochissimo tempo e l'abbiamo sempre detto negli ultimi anni, ma stavolta sul serio, questa generazione politica se non farà gli interessi dell'Italia sarà ricordata come la peggiore. Stiano bene attenti perché il Paese tra qualche mese rischia di non avere più soldi per mandare avanti la baracca, quindi si mettano al lavoro. Io sono d'accordo con i parlamentari che propongono di usare una bicamerale ma non per le schermaglie ma per davvero operare. Per fare perché stavolta non c'è centrodestra, non c'è Lega, non c'è Partito Democratico, non c'è Forza Italia, c'è l'Italia. Questa è la vostra responsabilità e parlo ai politici perché credo che abbiate le competenze per farlo, dovete abbattere gli steccati partitici perché stavolta è in gioco l'Italia, non un voto alle prossime elezioni. Sugli steccati adesso ci torniamo. Capone, dal suo punto di vista, tre priorità su cui bisogna appunto lavorare pancia a terra. Ma assolutamente le priorità che abbiamo già raccontato durante il periodo, anche prima del Recovery Fund. La priorità assolutamente principale è quella di rimettere in funzione le 700 opere pubbliche finanziate e ferme perché un sistema, chiamiamolo burocratico, farraginoso, complicato, le tiene ferme. Il modello Genova, lo ribadiamo, può essere sicuramente un modello applicabile e su quello, queste parliamo di opere già finanziate, quindi non vanno neanche a debito. Fatto questo, che è la prima cosa, liquidità assolutamente alle imprese e abbassamento del costo del lavoro con una tassazione ovviamente di vantaggio, soprattutto per chi mantiene i lavoratori al loro posto, per chi non licenzia. Queste sono le tre priorità, ma rimane il fatto rispetto ai 209 miliardi di cui vedremo quanta sovranità ulteriore dovremo perdere per poterla applicare, perché siamo preoccupati per la previdenza, siamo preoccupati per la fiscalità, siamo preoccupati per il welfare, se non lo determiniamo noi e se deve essere soggetto all'approvazione non della comunità europea, ma del Consiglio europeo, che sono i presidenti del Consiglio, i capi di Stato di Paesi che sono nostri concorrenti nello scenario complessivo e di questo non va assolutamente dimenticato. Ultima notazione, il fatto che abbiamo votato l'ulteriore scostamento di bilancio, arriviamo tra 20, 55 e 25 a 100 miliardi, che temo assorbiranno, essendo spesa a debito questa, una parte dei 209 che ci sono stati assegnati. Insomma, il quadro è abbastanza complesso e i tempi, sono d'accordo pure io, sono veramente brevi. Sentiamo chi fa impresa, Iadi Cicco, anche da lei mi viene da chiederle le priorità, quali sono dal vostro punto di vista? Mi sembra si sia persa un po' di vista qual è l'emergenza del Paese, perché se non ci rendiamo conto che da qui a novembre, dicembre, noi corriamo il rischio di una catastrofe economica e quindi di licenziamenti, chiusura di aziende. Benché non sia un elemento strutturale, oggi noi abbiamo bisogno di un sostegno ai consumi, che è quello che manca, quello che è mancato anche negli interventi del Governo. Leggevo ieri sul Sole 24 Ore il bonus turismo che risulta sin ad oggi un fallimento, ma non poteva che essere così, perché è un bonus che in parte carica un anticipo dei costi alle aziende, che comunque è in base al reddito, che comunque non mette in campo le risorse necessarie. Noi crediamo che ci sia bisogno di uno shock sui consumi immediato, che può essere fatto solo con una sorta di scarica tutto, cioè la possibilità per il consumatore di scaricare fino a una certa soglia di spese per determinate spese al consumo sulla prossima dichiarazione dei redditi, da qui a dicembre, che non è un intervento strutturale, ma un elemento di sostegno immediato alla domanda che è in grave crisi. Poi si apre la partita dei fondi europei, della ricostruzione, del rilancio, ma non ci dimentichiamo che di tutto questo se ne parlerà dal 2021 inoltrato e quindi non può essere la risposta che diamo oggi alle aziende e ai lavoratori. Rispetto al recovery ritengo che la strada maestra sarebbe stata e spero ancora che possa essere in futuro quella della creazione di un debito condiviso a livello europeo. C'è la possibilità che l'Unione vada oltre quello che è oggi e che condivida una parte del debito pubblico, quindi evitando di continuare a farlo gravare in parte sui debiti sovrani. Però certo il recovery è un'ingente quantità di risorse che dovremmo avere la capacità di spendere e secondo me, al di là delle opere pubbliche che chiaramente vanno fatte, lì ci sarà bisogno anche, dal mio punto di vista di una risposta strutturale ad alcuni settori del pubblico che sono stati particolarmente coinvolti da questa pandemia, che sono il settore sicurezza, scuole e sanità, perché un aumento strutturale delle retribuzioni di questi settori che sono sottopagati potrebbe diventare una leva per una crescita economica generale, quindi per un aumento delle retribuzioni anche nel privato, perché potrebbe portare ad un aumento dei profitti. Allora adesso vi facciamo vedere tra un attimo alcune storie dal mondo del lavoro, da chi è in grandissime difficoltà, però voglio chiedere di nuovo una cosa a Faraone, perché qualcuno prima lo citava, Gentiloni appunto oggi dice, intanto, anzi ci ricorda che siccome questi soldi, queste risorse non arriveranno prima della seconda metà, insomma nella migliore delle ipotesi del prossimo anno, l'Italia, siccome c'è uno strumento già utilizzabile che è quello del MES, utilizzi questo MES, no? Mi pare che il suo partito, l'abbia detto in tutte le salse, che va utilizzato, lo stesso segretario del PD Zingaretti sta facendo molto pressing, c'è però un problema a livello di maggioranza di governo, perché mi pare che il Movimento 5 Stelle, anche lì, un giorno sì e l'altro pure, abbia detto non se ne parla proprio e che Conte oggi dica, siccome abbiamo portato a casa nel computo complessivo 36 miliardi in più, che sono più o meno quelli del MES, basta con questa attenzione morbosa, ha detto Conte l'altro giorno sul MES, parliamo di recovery, ma come finirà questa partita del MES? Perché quelli sono soldi, diciamo, disponibili al più presto. Io chiedo a tutti quelli che ci dicono di non prendere quelle risorse, che risorse intendono utilizzare per potenziare il nostro sistema sanitario. Se riescono a convincermi che c'è una fonte economica alternativa, oppure mi convincono che il nostro sistema sanitario va bene così com'è, quindi non c'è più bisogno di medici e di medici specializzanti che vengono assunti, non c'è bisogno di infermieri, non c'è bisogno di strutture ospedaliere che vengano o ristrutturate o costruite in sala pianta, visto che ce ne sono costruite ai tempi della monarchia. Non c'è bisogno di TAC, mammografi. Se qualcuno mi spiega che tutte queste cose e che il nostro sistema sanitario, tra l'altro, è un sistema sanitario che funziona appieno, io credo che abbiamo sicuramente retto l'urto, però un po' i polsi ci sono tremati quando non capivamo quando si sarebbe fermata quell'epidemia, quanto si sarebbe stesa e se fosse arrivata nelle regioni più deboli dal punto di vista sanitario. Le regioni del sud, io credo che quelle risorse, se usciamo di biologico e cominciamo a ragionare nel merito come le spenderemmo, ci servono gli interessi che paghiamo su quelle risorse, sono interessi molto, molto più bassi rispetto a qualunque, diciamo, altra risorsa messa a disposizione. Le condizionalità non ci sono, addirittura ce ne sono meno che quante ce ne sono nel recovery fund, che sono risorse ottenute a prezzo di una trattativa incredibile, con altri paesi, i famosi frugali, per cui io credo che quelle risorse sommate ai 209 miliardi e alle risorse sure sul lavoro ci consentano un pacchetto di intervento complessivo, perché tutti gli studi avete detto sviluppo, io sono d'accordissimo, risorse per la decontribuzione, quindi per abbassare le tasse sul lavoro, niente assistenzialismo, risorse per le infrastrutture, io credo che con quelle risorse dobbiamo costruire il ponte sullo stretto di Messina, almeno in quota parte, cioè dobbiamo fare una serie di opere che rimangono nel tempo. Il tema mess ci consente di mettere il nostro sistema sanitario in una condizione di modernità e di passo con i tempi rispetto a eventuali altre crisi sanitarie, ma anche per migliorare il sistema sanitario con la digitalizzazione, con tante altre storie che non sto qui a raccontare, la medicina territoriale ha creato molti buchi nel sistema sanitario nostro, soprattutto in quella fase, per cui usciamo fuori dall'ideologia, cambiamogli pure nome al Mess, così magari si stanno un po' più tranquilli, i sovranisti che stanno sempre a sparare, chiamiamolo Sem, appunto. Chiamiamolo Sem, così lo utilizziamo. Arrivo perché è chiaro che di conseguenza devo andare da Siri, però faccio, Siri, un attimo, un passaggio con Sommella, perché prima mostravamo proprio un editoriale di Roberto Sommella che dice MES o non MES, sempre di debiti si tratta. Queste sono le tabelle del Consiglio europeo, non è che le abbiamo fatte noi, mostrano che noi abbiamo avuto più soldi, cioè i 209 miliardi di euro in più stabiliti dal Consiglio europeo, sono per l'appunto 36 in più di prestiti, quota prestiti, guarda caso, l'importo del MES. Cioè ci hanno voluto togliere d'impaccio gli altri paesi europei? Esatto, ma al di là di ciò, i prestiti sono debito, mi risulta ancora oggi, no? Ecco, allora, sono comunque 36 miliardi di debito in più. Se possiamo quindi fare 36 miliardi di debito in più alla luce delle risultanze del Consiglio europeo, non vedo perché questo debito di 36 miliardi in più non ce lo possiamo fare subito, perché rischiamo di non arrivare con i conti in ordine a settembre. Tutto là, infatti il mio editoriale, si dice il Zeviro in termini di stampa, finisce là, è brevissimo, sì. Ma è un grafico che parla più che il direttore di Milano Finanze. Peraltro oggi la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un'intervista, ricorda appunto, fa un discorso molto ampio, e ricorda appunto che tra gli strumenti già utilizzabili c'è appunto il Fondo Sciur per la Cassa Integrazione e c'è il MES. E torno a dire, la bicamerale proposta è fondamentale anche per questo. Ci dica il Parlamento, che è il nostro rappresentante, se usarlo o meno. Però tu sai benissimo che dal punto di vista politico questo crea imbarazzo nella maggioranza e nell'opposizione. Ma non è più il momento dell'imbarazzo, perché ci saranno un milione di disoccupati. E poi chiedete a un milione di disoccupati se sono imbarazzati. E poi lo prenderanno subitamente. Sì, Siri dice Sommella, non è più il momento dell'imbarazzo. Andate a parlare di imbarazzo a un milione di possibili disoccupati. Io dico solo una cosa, io dico solo questo. Andate a parlare a un milione di possibili... No, scusi, andate a parlare a un possibile numero di un milione di persone disoccupate nel prossimo futuro in Italia che siete imbarazzati a prendere il MES, vediamo cosa vi rispondono. Sentiamo Siri, Siri. Tutti i partiti, nessuno escluso. A me pare che ci sia una sorta di forma psichica autoinvalidativa e autosabottativa in Italia. Noi abbiamo, due mesi fa, collocato in quattro giorni 23 miliardi del BTP in Italia. Il nostro paese ha 5 mila miliardi di risparmio privato, finanziario. E quindi, io ripeto, avremmo potuto seguire un'altra strada. Avremmo potuto seguire la strada dell'emissione di un BTP. Ma l'abbiamo collocato a tassi positivi. Sì, onorevole, l'abbiamo collocato a tassi positivi. Il MES a tassi negativi. Perché i soldi ce li no. Il MES ci pagano per prenderlo. Dovete dire la verità. Il MES ci paga e a tassi negativi. Lei prenderebbe un mutuo a tassi negativi o un mutuo a tassi positivi? Dovete dire la verità. Allora, in politica, siccome non è solo in gioco lo zero virgola, ma è in gioco la sovranità e le decisioni autonome che il Parlamento deve poter prendere, allora io preferisco pagare un X% di interesse ai cittadini italiani che spenderanno questi soldi nel circuito produttivo dei consumi nazionali, piuttosto che mettermi nelle mani di un soggetto straniero che mi detta l'agenda politica nazionale. Ma perché lei pensa che con recovery fund non si mette in mano la Commissione europea? Se noi avessimo la possibilità, se noi avessimo avuto più coraggio e avessimo creduto nei nostri risparmiatori italiani, avremmo potuto andare da loro e dire noi emettiamo questo titolo, vi diamo un po' di soldi di interesse, con i soldi che ci prestate facciamo le cose che servono al Paese e le facciamo subito, senza condizionalità. Invece noi insistiamo con questi strumenti, che sono strumenti che continuano a limitare il margine di manovra, che non è solo una leziosità politica, ma è anche un margine di manovra concreto sulle cose che sono urgenti, lo ripeto e lei lo sa perfettamente. In questo recovery fund, ma anche con i soldi che arrivano dall'Europa, noi non potremo agire sulla leva fiscale e noi oggi abbiamo bisogno più che mai di agire su quella, se vogliamo che il Paese si riprenda. Quindi io preferisco, e lo ripeto, pagare qualche soldino in più, e le ricordo, lei è uno specialista, che lei sa benissimo che il servizio del debito ha un costo, perché sa perfettamente che all'interno di tutto il meccanismo del servizio del debito noi paghiamo un costo. Ecco, allora io mi chiedo, perché pagare tutti questi denari in queste strutture finanziarie e non darli invece alla famiglia italiana che crede nel proprio Paese? Ecco, sono, come dire, ragionamenti semplici, ma è nella semplicità che poi si trova la via d'uscita e, diciamo, quella azione saggia e coraggiosa che serve poi alla nostra intesa. Ultimo, 30 secondi di replica. Avrei impostato le cose in questo modo. Benissimo, già questo dimostra che però la bicamerale, torno a dire, sarebbe il luogo deputato, perché io faccio l'osservatore, non è che sono un politico, però torno a dire una cosa, se siamo tutti d'accordo, onorevole Siria e tutti gli altri. Allora, abbiamo due strumenti, Recovery Fund e MES, Fondo Salva Stati, ok? Il MES ha delle condizionalità, sono state tolte e ha tassi negativi per prendere 36 miliardi di euro. Il Recovery Fund è fatto di prestiti e di fondo perduto. La parte prestiti avrà presumibilmente anch'esso tassi negativi, ma anche lì ci sarà un controllo della Commissione Europea su come spendi questi soldi. Viva Dio, aggiungo. Allora, la sede deputata, per stabilire cosa è meglio, MES, Recovery Fund, oppure MES più Recovery Fund è il Parlamento, ma con un approccio tecnico, ragioneristico, pragmatico e rapido. Scusi, posso fare una domanda, Pancavi, posso fare una domanda sommella, una domanda tecnica? Ecco, che mi dà uno spunto. Siccome questi denari, questi denari che l'Europa ci presterà, in realtà non è che sono in cassa, l'Europa dovrà andare sul mercato e recuperare. Certo. Allora chiedo a Svella, c'è in tutta Europa qualcuno che compra dei titoli a tasso negativo? Cioè c'è qualcuno che è disposto a finanziare l'Europa senza guadagnare il tubo? Allora, le rispondo, sì, perché l'Europa, cioè la Commissione Europea, emetterà debito con la AAA, noi emettiamo debito con la AAAB, quindi li troverà. Assolutamente sì. Allora, un attimo, scusate, fatemi sentire Iadi Cicco ancora e Capone. Iadi Cicco, appassiona questo dibattito mess sì, mess no? Ma guardi, il tema è appassionante, però voglio dire una cosa, che noi dovremmo provare ad essere sinceri con gli italiani. Ora, francamente, io ho una bandiera dell'Italia dietro le spalle nella stanza di mio figlio, però sostenere che possiamo superare questa fase col debito patriottico, e mi dispiace per l'onorevole Siri, ma la trovo francamente una risposta non credibile, perché 300 miliardi di debito da parte dei risparmiatori italiani non ce li avremo mai. Ma cosa dici? Abbiamo 5 mila miliardi di risparmio privato, abbiamo comprato 23 miliardi. Sì, sì, va bene, l'abbiamo accumulati nel corso, mi faccia parlare, l'abbiamo accumulati nel corso degli anni, non è che abbiamo 5 mila miliardi presi in 24 ore. Se lei pensa che si possano recuperare 300 miliardi di debiti dagli italiani, io francamente ritengo che non sia percorribile come strada, 300 miliardi di risorse a debito provenienti dai risparmi degli italiani, se fosse percorribile l'avremmo già percorsa. Ora, invece io credo che sia importante provare a far fare alla banca centrale quello che dovrebbe fare una banca centrale, che è questo il vero tema a livello europeo. Cioè noi dovremmo provare a far fare alla banca centrale europea quello che fanno le banche centrali o che dovrebbero fare, cioè provare ad acquistare titoli del debito e anche a valutare l'ipotesi che se le risorse utilizzate con quei titoli, con quel debito, producono un effetto leva positivo, anche provare a immaginare che un pezzo di questo debito sia cancellato. Quindi condivisione del debito a livello europeo e superare anche questo pregiudizio ideologico che non si possa utilizzare la banca centrale come... No, 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 scusatemi, scusatemi, arrivo, sì, sì, no, ha ragione, sì. Posso? Un attimo. Adesso ci torniamo sulla banca centrale, devo sentire ancora Capone e sulla banca centrale voglio sentire anche Sommella, però ho la pubblicità, andiamo in pubblicità e per mettere un altro ingrediente nella nostra discussione vi faccio sentire la testimonianza di una donna, di un call center, che insomma si lavora in condizioni pazzesche. Tra poco... Ho iniziato nel 2013 per una grossa azienda nel Tarantino, dopodiché nel 2017 decido di andare via perché comunque non andava bene una campagna a quale ci stavo lavorando, era troppo aggressiva e rispondo ad un annuncio poi di lavoro. Lei è Michela, 36 anni, un marito artigiano e due figli, è un'operatrice outbound, una di quelle che telefonano a casa per vendere prodotti. Prima di lavorare nei call center ha fatto un po' di tutto. Ho fatto tante attività, lavoro nell'agricoltura, nella cucina come aiuto cuoco e ovviamente poi forse ero portata, non lo so, nel mondo del call center. La candidatura online, un colloquio sbrigativo e il posto subito, il giorno dopo? Entro in questo stanzino, due metri per due metri neanche, faccio il colloquio ed era per una società, per linea internet in casa. Lì inizio a lavorare il giorno dopo, non ho visto il contratto, me l'hanno fatto firmare mentre ero in postazione e da lì ovviamente succede che inizio a vedere delle cose un po' distorte. Michela infatti scopre che pur avendo firmato un contratto per 6,50 euro avrebbe preso non più di 33 centesimi l'ora, stesso trattamento anche per le colleghe, tutte quante donne. La responsabile ci disse che era troppo il tempo passato in bagno, troppo il tempo passato ad esitare una telefonata con un'altra e per questo motivo ci sono state queste decurtazioni, dicono loro, di ore. Ma prima di dire basta e denunciare, stringe i denti al lavoro in due stanze di cui una di appena 12 metri quadrati. Quella più piccola stanza eravamo in 10, i fili erano pensolanti, non c'era aria calda, non c'era aria fredda, non c'era una finestra, c'era soltanto delle finestrelle così per lungo per poter, neanche le potevamo aprire perché erano bloccate. Oggi Michela ha un nuovo impiego, un altro call center, 1000 euro al mese e un contratto a progetto. Quello che viene chiamato il telemarketing selvaggio, anche dall'autorità privacy, è un fenomeno diffusissimo, anche perché le numerose normative che sono ormai da circa 10 anni in vigore a tutela dei consumatori contro le chiamate selvagge, sono del tutto disattese dagli operatori. Eppure un modo per tutelarsi c'è, semplice, anche se non del tutto efficace, sono infatti ancora escluse le utenze mobili. Si va sul sito del registrodelleopposizioni.it, che è una fondazione gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, e segnalo che mi oppongo alla ricezione di messaggi o a chiamate. Dal primo dicembre prossimo la possibilità di iscriversi al registro riguarderà tutti i numeri, indipendentemente dal fatto che siano utenze fisse o mobili e che siano meno iscritte negli elenchi telefonici pubblici. Ecco, quella era la seconda parte, poi ovviamente, le telefonate commerciali che bombardano gli italiani Capone, ma come si fa a lavorare 33 centesimi all'ora? No, come si fa a consentire a degli imprenditori banditi di far lavorare le persone in quelle condizioni e con quelle retribuzioni. Questo è l'altro grande problema sul quale, e da questo anzi vorrei partire per rispondere anche alla domanda prima, a quei lavoratori, e non soltanto a quelli a 33 centesimi, che ovviamente devono avere tutta la tutela, ma devono denunciare questi fenomeni. Dico però a tutti i lavoratori, e sono tantissimi, quelli da redditi bassissimi, quelli da lavori faticosi, perché non ci scordiamo, certo non si arriva a 33 centesimi, ma nelle cooperative si fanno lavori durissimi a retribuzioni molto basse, che non aiutano proprio il consumo, aiutano la famiglia, ma con molte, molte, molte difficoltà. Ecco, a quelle persone, che sono la maggior parte degli italiani, sono i famosi 11 milioni che sono in una condizione di povertà relativa, il cui problema non è la mancanza del lavoro, è avere un lavoro con i redditi troppo bassi, a quelle persone bisogna dare una risposta. E sinceramente, a quelle persone, probabilmente, il nostro dibattito, se il MES sì, il MES no, o se i titoli nazionali o titoli europei, non interessa tantissimo. Quello che bisognerebbe fare, però, è proprio fuori da ogni tipo di pregiudizio, pregiudizionalmente, d'accordo, non possiamo essere nei confronti del MES, perché è una disponibilità che l'Europa ci mette a disposizione, tanto quanto, però, un tentativo sull'utilizzo del risparmio nazionale per l'emissione di bond, di titoli proprio finalizzati, a vantaggio ovviamente, finalizzati al finanziamento del debito pubblico, poteva essere presentato. Cioè, le strade vanno seguite tutte quante. Mi dispiace sentire il sì e il no su posizioni che sono pregiudizievoli. Cinque Stelle sta su una posizione negativa per motivi, diciamo, proprio ideologici, ma ne sono convinto e sono pronto a fare una scommessa. Se la Spagna chiederà il MES, cinque minuti dopo, Conte potrà dire io non sono stato il primo a chiederlo e lo farà tranquillamente. Sì, sì. Quindi, tutto questo, però, al mondo del lavoro, che ha difficoltà a fare una spesa straordinaria di 800 euro, e sono 11 milioni di persone, che erano quelle che una volta chiamavamo classe media ed erano quelle che finanziavano il welfare per le persone veramente meno abietti, per quei 4-5 milioni che stavano in condizioni di disagio sociale, psicologico, fisico, e che quindi dovevano essere aiutati dalla classe media. Noi, in questo paese, nel frattempo, e anche grazie alle politiche di austerità dell'Europa, abbiamo reso più poveri un po' tutti quanti. Ecco, questo è uno dei temi sui quali bisogna riflettere, perché poi li prendiamo dove volete i soldi, ci mancherebbe dove ce li mettono a disposizione. Però devono essere finalizzati al rilancio dell'economia, alla ripresa delle aziende. Bisogna dare la liquidità alle aziende che danno il lavoro. Io difendo i lavoratori, ma sono preoccupatissimo perché nessuno difende il lavoro. Sì, sì. Questo è il tema. Allora, facciamo così. Iedicicco ha un impegno. Voglio sentire un'ultima battuta anche dal presidente dell'Ampit. Insomma, abbiamo già squadernato un quadro a tinte fosche. Mettiamola così. Da un punto di vista, voglio dare una notizia. C'è l'Istat che dà il polso della fiducia. La fiducia dei consumatori a luglio cala mentre sale per le imprese. Eh, sale per le imprese. Beh, bisogna capire che cosa vuol dire. Cioè, se scende la fiducia dei consumatori e purtroppo scende anche la fiducia delle imprese perché le imprese in gran parte vivono di quello che fanno i consumatori. Se c'è qualcuno che consuma, le imprese funzionano. Quindi, io non credo che ci possa essere un grande livello di fiducia in questo momento nel Paese. però, credo che non sia invece indifferente il ragionamento che facciamo su dove provengono i fondi. Nel senso che, per chiarire, io sono favorevole all'ipotesi che ci sia da parte degli italiani l'acquisto di una parte del debito pubblico. Ma non credo che possa raggiungere le cifre che vengono ricordate. Per questo io ritengo, in maniera realistica, che o si cambiano i trattati europei, si dà un'altra funzione, un altro ruolo alla Banca Centrale, e si condivide un percorso di debito oppure temo che, d'altra parte, tutti questi soldi che ci stanno dando, che sono soldi a debito in gran parte, la stragrande maggioranza, comunque, quando dovremo rientrare nei limiti del patto di stabilità, ci verranno richiesti e a quel punto, dopo aver attraversato la fase della crisi, ci troveremo a dover fare delle politiche, chi governa farà delle politiche lacrime e sangue che non ci consentiranno lo sviluppo. Quindi, utilizziamo oggi queste risorse, ma cominciamo a ragionare su come riformare l'Unione Europea. E credo l'utilizzo delle risorse è in tre flash. C'è un'urgenza sui consumi da qui a dicembre. Poi c'è ovviamente un'urgenza di pianificare e strutturare investimenti e quindi interventi sul lato dell'offerta e aumentare le retribuzioni di alcuni comparti per lavorare sul lato della domanda. E poi, successivamente, se la leva è positiva, intervenire riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie e riforma del sistema del welfare per renderlo più efficiente, competitivo e solidale. Chiarissimo. Grazie allora intanto al presidente di Ambit Iadi Cicco. Adesso voglio sentire poi gli altri ospiti perché si era aperta la discussione sul ruolo della banca centrale. Adesso lo affrontiamo, cioè che deve diventare banca di ultima istanza. Insomma, questo dice Iadi Cicco, ma ovviamente lo statuto della BCE... Deve comprare il debito appena messo, oggi la Banca Centrale Europea lo compra sul mercato secondario, cioè quello già emesso. La differenza è sostanziale come tra comprare una macchina nuova e una macchina usata. Se compri una macchina nuova il debito di prima emissione i soldi vanno al costruttore. Se compri una macchina usata il grosso dei soldi vanno al percettore, al proprietario della macchina. Adesso risentiamo sia... Posso chiedere una cosa, Pancani? Sì, posso chiedere una... Posso chiedere una grande incidenza? Siccome siamo a ridosso della pubblicità c'è sotto corona appena ripartiamo riparto dalla sua domanda. Va bene? Benissimo. Grazie. Benissimo. Buongiorno Paolo. Eccoci, buongiorno. Alla weekend come sarà questo? Il weekend sarà buono ma oggi dobbiamo pagare un biglietto perché in effetti le carte davano oggi una forte instabilità al nord sembrava impossibile perché fino a ieri insomma ha fatto pochissimo. guardate i temporali forti questa mattina sulla Lombardia si sono spostati a prendere Trentino, Veneto le milie al momento e soprattutto questi che stanno interessando invece il Piemonte sono una specie di seconda ondata che non era prevista entrare proprio in quella zona lì. Guardate la previsione per la prima parte della giornata di oggi. Vedete prendeva l'alto Piemonte la zona con i temporali forti poi questi poi ovviamente questi tendevano a scendere però c'è anche già qualcosa qualcosa in più e anche vedete sulle miglie la possibilità di questi temporali il tutto questo nucleo più intenso si muove verso est sud est il salto è abbastanza brusco ma per questa sera cioè nel pomeriggio migliora sulle miglie sulla Lombardia sul Piemonte anche sulla Val d'Aosta ovviamente e i fenomeni restano molto forti fra Trentino soprattutto Veneto e Friuli Venezia Giulia questa carta è da da allerta perché diciamo la quantità di piogge potrebbe essere particolarmente elevata il tutto piano piano si attenua e finisce cioè sembra che tutto passi in queste in queste 24 ore perché in realtà la giornata di domani vede qualche strascico sul nord est ma ormai i fenomeni intensi sono andati sulla penisola balcanica sul resto del paese torna il tempo stabile leggero passo indietro delle temperature massime al nord ma niente di drammatico perché poi recuperano e infine la giornata di domenica assolutamente tranquilla anche lei con qualche debole pioggia le solite cose del pomeriggio sulle zone alpine quindi oggi è una giornata è una botta dura veramente però potrebbe esaurirsi molto lo sa la città di Milano il seveso tanto per cambiare esondato con grandi difficoltà in tutta quella zona addirittura persone tratte in salvo da auto finite nei sottopassi allagati bloccati in ascensore queste sono alcune fotografie lo dico perché oltre che riguardare la situazione meteorologica sentiamo parlare di messa in sicurezza del seveso da decenni allora questi fondi usiamo pure per la manutenzione ideogeologica visto che c'è riempiamo la bocca di questo scusa Paolo avevo letto e sentito che il seveso esonda 25 volte l'anno significa una settimana sia una no cioè è chiaro che lì c'è un problema strutturale grazie pubblicità tra pochissimo torniamo qui allora riparto come promesso da Siri che non so se aveva una domanda prego Siri sì avevo una domanda nel senso che per un ragionamento più ampio io mi chiedo che futuro ha un'economia in cui non solo il denaro non vale nulla ma addirittura è un costo quindi e approfitto visto che c'è sommella lì per vedere se riusciamo anche ad alzare il ragionamento perché poi noi dobbiamo andare a vedere anche le cause anziché i sintomi a cui siamo abituati poi diciamo a correre dietro perché c'è un'urgenza vera prima stavamo discutendo del tema dei tassi positivi o negativi cioè quando il denaro non vale più niente l'economia è veramente finito come paradigma quindi dovremmo farci delle domande e capire se questa è la strada di giusto poi faccio giusto un inciso faccio giusto un inciso sul tema delle banche centrali allora il tema della banca centrale europea è un tema diciamo sui generis perché le banche centrali che fanno il prestatore di ultima istanza nel mondo ci sono in Giappone nel Regno Unito di Gran Bretagna negli Stati Uniti cioè tutte le banche centrali fanno il prestatore di ultima istanza quindi il problema è capire a un certo punto se la BCE vuole continuare a essere una banca centrale diciamo ibrida una banca centrale che non è una banca centrale oppure no mi pare che di fronte a queste situazioni noi oggi avremmo bisogno di rimettere sul tavolo una discussione sul tema della banca centrale e sul suo ruolo in Europa sì posso un attimo una cosa perché questo volevo tirare in ballo Faraone di nuovo perché quello che dice Siri rispetto per esempio al ruolo della BCE mi fa pensare a quello che l'Europa fino adesso ha messo in campo non parlo del recovery fund sappiamo di questo intervento colossale della BCE i bond pandemici chiamiamoli così cioè questo acquisto che sta continuando a fare in maniera massiccia di titoli di Stato che è un grande paracadute anche e soprattutto per il nostro paese sappiamo che il patto di stabilità è sospeso sappiamo che anche tutto il capitolo riguardo gli aiuti di Stato è stato congelato c'è da più parti chi dice ma tutto questo va assolutamente ridiscusso e rinegoziato cioè non si può pensare che fra qualche mese se usciremo finalmente dall'emergenza coronavirus tornino così come le conosciamo le regole europee è una bellissima discussione sentiamo un attimo Faraone su questo perché mi pare che qui ci sia in questo forse più in sintonia con Siria ecco questo voglio dire anche ma io sono convinto che noi stiamo innescando in Europa degli splendidi precedenti perché oggi diamo per scontato cose che fino a qualche settimana fa non lo erano noi a proposito di indebitamento nazionale io ricordo che abbiamo fatto tutte le ultime manovre i decreti cura Italia rilancio il prossimo che faremo tutto con un indebitamento nazionale 100 miliardi di euro sulle nostre spalle soltanto l'Europa a proposito dei splendidi precedenti ci ha garantito intanto un intervento a cui eravamo stati abituati con Draghi ma con un'entità e con un impatto molto più forte quello a cui facevate riferimento voi e cioè l'acquisto dei titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea e questo ci ha naturalmente aiutato e sostenuto in questa fase di grandissima difficoltà poi io è vero che noi dobbiamo tendere anche al debito europeo ma io intanto acquisirei il risultato splendido del bond europeo e quindi di quei titoli diciamo ultra garantiti da una solidità di un bilancio europeo per cui io questa la considero una straordinaria conquista insieme alle risorse del fondo perduto e queste conquiste ripeto non erano scontate fino a qualche tempo fa è chiaro che il governo di queste risorse e il tema condizionalità a noi deve riguardare relativamente se noi queste risorse le spendiamo bene senza alcun controllore che ci dice con la bacchetta questo puoi farlo questo no se noi immaginiamo utilizzare queste risorse una tantum per reddito di cittadinanza per spese assistenzialismo e non per interventi vogliamo dire anche per quota 100 quota 100 così puoi dire ma se è nella maggioranza c'è Faraone è nella maggioranza vorrei ricordare eh si dice non ho sentito no dice son me la lei è della maggioranza fa parte della maggioranza cancellate il reddito di cittadinanza siete in maggioranza ma io intanto ricorderei critica misure del suo governo provo no 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 sono misure del governo giallo verde è sempre colpa di quelli di prima deve chiedere più a Siri deve chiedere più a Siri sul reddito di cittadinanza un attimo glielo chiediamo a Siri noi lo sappiamo l'abbiamo letto come cosa c'entra il governo era quello giallo verde che ha introdotto il reddito di cittadinanza ma siete al governo col Movimento 5 Stelle le rendo noto che ha fatto quelle misure ora scordiamoci il passato dovete dare una risposta agli italiani se lei critica quelle misure è portata in Parlamento una proposta per cancellarle ma no ma io dico semplicemente quelle misure sa benissimo lei che noi siamo quelli del Jobsat non quelli del reddito di cittadinanza per cui forse mi sta confondendo con con qualcun altro dopodiché quelle misure noi le vogliamo modificare saremmo in maggioranza ma siamo una forza politica che rappresenta una parte molto piccola della maggioranza fossimo noi la forza di maggioranza relativa avremmo fatto tutt'altro per cui questo non abbiamo dubbi io vorrei dire una cosa questo dibattito dimostra e mi conferma magari sbaglio che c'è una sede costituzionale per questi dibattiti che è il Parlamento allora voglio rispondere anche un attimo all'onorevole Sidi che ha posto una domanda importante la differenza tra la banca centrale europea e le altre banche centrali torno a dire è molto semplice la banca centrale europea può comprare debito da chi l'ha comprato a sua volta dai tesori nazionali mentre tutte le altre banche centrali possono direttamente comprare il debito dai tesori nazionali è la stessa differenza che passa tra comprare un'auto usata o un'auto nuova se io compro un'auto usata i soldi vanno in parte piccolissima al concessionario e tutto il resto al precedente proprietario se compro un'auto nuova i soldi vanno al costruttore di automobili chi costruisce automobili è la Fed la Fed è la riserva americana chi vende automobili usate in questo caso è la banca centrale europea questa è la differenza noi per fare quello che diceva l'onorevole Sidi cioè per creare una banca centrale di ultima istanza che è quello che serve oggi subito in Europa dobbiamo purtroppo modificare lo statuto della banca centrale europea ma credo che un dibattito del genere vada portato con grande forza all'interno del Consiglio europeo perché se noi abbiamo approvato questo super piano di recupero è perché la Germania ha molta paura della crisi è completamente cambiato lo scenario rispetto al 2011 quindi tu dici che c'è Angela Merkel una flebile speranza una flebile speranza che magari si parli si discuta anche del ruolo della banca centrale simul cadente la Germania sa bene un passo alla volta allora voi dovete fare dieci passi subito intanto le conquiste fatte godiamo ce le sfruttiamo bene quelle risorse perfetto però discutiamo su questa riforma allora non c'è più tempo per passi alla volta alla moviola voi dovete chiudervi in Parlamento da oggi e discutere se fare la bicamerale come spendere questi soldi chiedere al Premier Conte di individuare una figura che sia il Ministro Qualtieri o un commissario della spesa che guarda caso non c'è più oggi che serve e che faccia un cronoprogramma non a ottobre ma domani su come spendere questi soldi se no hanno ragione i paesi frugali che non ci volevano dare questi soldi insomma quello che dice Sommella caro Faraone e caro Siri visto che siete due parlamentari agosto altro che ferie chiudetevi in Parlamento ma io penso che loro lo vogliono fare l'abbiamo c'è da dire una cosa bisogna però chiudere questo ragionamento con una certezza i denari che l'Europa ci dà non serviranno per abbassare le imposte alle imprese e alle famiglie italiane poi da qui partiamo e possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo ma non è vero non è vero non ho avuto una risposta circa il tema dell'economia che si trova ad avere in giro il denaro che non vale niente ed è solo un costo quello che dice quello che dice Siri non è vero cioè se noi riusciamo a intervenire con risorse per la decontribuzione che viene che dovremo garantire alle imprese e anche ai lavoratori se riusciamo a intervenire sulle infrastrutture quindi sui costi che le imprese devono pagare per infrastrutture che non funzionano o che sono assolutamente impraticabili se noi riusciamo a intervenire su una serie di ambiti diamo una mano alle imprese quelle che creano lavoro vero dopodiché d'accordissimo un anno ad agosto si lavora noi abbiamo detto al Premier Conte di portare questo cronoprogramma nella forma che riterrà più opportuna in Parlamento ad agosto perché non abbiamo tempo da perdere allora posso adesso vado da Francesco Magliani forse dovevo se posso andare a Siri ci prendiamo un minuto per due battute finali intanto Francesco buongiorno buongiorno Andrea noi riprendiamo un po' il testimone della vostra discussione cronoprogramma piano degli investimenti ma soprattutto chi lo deve fare ieri raccontavamo degli applausi a scena aperta tributati a Conte oggi dobbiamo raccontare di come la festa sia finita perché da ogni parte maggioranza e opposizione gli viene chiesto di condividere questa incombenza forse perché non si è lasciato solo a decidere come verranno spesi questi soldi tanti ospiti con cui parlarne Antonello Caporale del Fatto Quotidiano il direttore di Libero Pietro Senaldi il vice presidente del Parlamento Europeo 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo Giorgio Mule e poi ragioneremo appunto su i compiti che forse l'Italia dovrà tornare a fare dopo questa montagna di miliardi che arriveranno dobbiamo mettere mano alle pensioni dobbiamo fare un piano importante sulla lotta all'evasione arrivano a parlarne il direttore di Repubblica Molinari Maurizio Molinari Pier Carlo Padoan Claudio Borghi da ultimo ripercorriamo questa settimana con le analisi sempre molto lucide di Alessandra Ghisleri insomma tante cose anche oggi restate con noi Andrea a te grazie battuta finale di Sommella rispondo all'onorevole Siri se sei debitore i tassi negativi ti convengono se sei creditore evidentemente no noi siamo un paese di grandi risparmiatori ma di grande debito dobbiamo coniugare queste due forze ma al momento se ci offrono dei prestiti a tasso negativo nessuno può dire no tweet finale per Capone Capone volete essere coinvolti in questa agenda che il governo deve scrivere se non vengono coinvolti le parti sociali rischiamo che quantunque la decisione è in capo ovviamente alla politica e chi rappresenta la politica rischiamo di non avere il quadro completo delle istanze che vengono soprattutto dal mondo del lavoro dal mondo dell'impresa che credo siano gli elementi che possono contribuire alle scelte migliori e anche ai controlli migliori questo è quello che auspichiamo vediamo come se Conte peraltro come dire con la logica della task force cercherà di portare tutto sotto il suo controllo stretto o se andrà come normalmente dovrebbe andare in una sede parlamentare visto che fino adesso tra come dicevamo a forza di maggioranza e di fiducia scusate e così fuga un po' dal controllo parlamentare anche dal confronto parlamentare mi sembra che è rimasta scoperta qualcosa in questi meccanismi vediamo grazie intanto allora io ringrazio Paolo Capone segretario generale dell'UGL ringrazio Roberto Sommella di azione della finanza grazie a Faraone e Siria anche per insomma il confronto vivace ma franco che c'è stato oggi quello serve è quello sempre importante grazie noi ci vediamo domani una puntata proprio per parlare di scenari di settembre impressioni di settembre vediamo con molti ospiti allora adesso c'è la reghetina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti